Per la mia famiglia è sempre stato importante, avendo la possibilità di aiutare chi è un po' più sfortunato. In tutta Italia, con l'arrivo delle feste, molte sono le iniziative di solidarietà verso le famiglie o le persone in difficoltà. A Roma, l'Associazione Nazionale Presidi, l'Associazione Ristoranti Centro Storico e Musa Formazione hanno organizzato presso due scuole della capitale un pranzo per le persone con poche possibilità. Avremo circa 150 persone, questo sta a dimostrare come sia il Covid sia la crisi economica stia influendo pesantemente sul numero delle persone che purtroppo si trovano e si troveranno in difficoltà. È un'iniziativa che si sta diffondendo e noi vorremmo che diventasse uno dei fiori all'occhiello soprattutto della scuola romana. Il servizio ai tavoli verrà effettuato dagli studenti delle due scuole, desiderosi di aiutare concretamente chi è in difficoltà. Siamo riusciti a entrare in contatto con realtà che non ci appartengono e siamo venuti alla conoscenza di storie che ci hanno commosso. Inoltre è stato fondamentale per lo sviluppo di relazioni anche con gli altri compagni di scuola. In cucina ci hanno fatto cucinare, tagliare le verdure oppure cucinare la pasta. Faccio una cosa per aiutare gli altri. È una cosa molto bella. Al di là delle singole discipline scientifiche che insegniamo qui all'Istituto Scolastico Pionono c'è sempre da ricordare ai ragazzi che c'è bisogno di solidarietà ed umanità.